Come sta il nostro Sacromonte di Varese, il nostro patrimonio unesco e il gioiello della nostra città e della nostra provincia? Ce lo chiediamo oggi, avviamo infatti una inchiesta relativa proprio alla salute del nostro Sacromonte e ai problemi legati all'accessibilità e alla vivibilità del luogo. L'occasione viene data dal presidente di Ascom Varese Besacchi che a Prealpina ha inviato un proprio documento, una propria riflessione nella quale dice a Sacromonte andarci è un diritto e la chiusura al traffico veicolare oggi non è la soluzione, motivo per cui i commercianti si mettono a disposizione per studiare una politica di accoglienza dei turisti. Come vedete oggi ci sono moltissimi pullman di pellegrini, abbiamo incontrato anche oltre 120 ragazzi dell'oratorio di Casciago che ci hanno raccontato come da Casciago sono arrivati fino a Sacromonte. La funicolare è aperta dal giovedì alla domenica e quindi oggi prima giornata di vera estate è iniziato diciamo il weekend per una frequentazione del Sacromonte che si spera sia nutrita di turisti e di visitatori.